Vice Presidente Morasi, come sta andando la campagna vaccinale in Lombardia? Sta andando bene, siamo molto sopra i 5 milioni di dosi, siamo la regione più virtuosa per aver messo in sicurezza le fasce più fragili, quindi abbiamo un'adesione che va dal 96 al 92% per gli over 80, gli over 70, gli over 60. Quindi è sicuramente una soddisfazione poter sapere che i cittadini hanno risposto in maniera così positiva. Se arriveranno, come ci hanno dato indicazione ieri, le dosi indicate, potremo aumentare la vaccinazione giornaliera dall'attuale 85 mila fino ai 100 mila al giorno. Questo significa che noi saremo in grado di vaccinare tutti i cittadini lombardi con una prima dose entro il 30 di luglio. Quindi sicuramente è una buona buona percentuale. È la sua prima volta a Cremona da Vice Presidente della regione Lombardia, ma conosce la città. Io sono particolarmente legata a questa città perché la nonna aveva origini cremonesi e quindi è una città che conosco, una città che ho frequentato, che frequento e alla quale mi sento particolarmente legata. Grazie Vice Presidente.